Oggi qui accanto a me potete vedere ci sono cinque bambini in rappresentanza dei cinque continenti. Insieme con loro desidero annunciare che nel pomeriggio del 6 novembre nell'aula Paolo VI incontrerò bambini di tutto il mondo. Bambini provenienti da tutto il mondo il prossimo 6 novembre incontreranno Papa Francesco nell'aula Paolo VI. Tra loro ci saranno anche bimbi palestinesi e israeliani. L'obiettivo è di diffondere attraverso il linguaggio dei più piccoli il bisogno di pace in un contesto di guerre. I dettagli dell'evento dal titolo Impariamo dai bambini e dalle bambine patrocinato dal Di Castero per la cultura e l'educazione sono stati illustrati in una conferenza stampa in Vaticano alla presenza tra gli altri organizzatori del lucano Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa Auxilium, oltre al professore Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, e a padre Enzo Fortunato. Quello che vedete accanto a noi è tutto animato da un collante che è quello della fraternità, del volersi bene. Ci vogliamo bene. Ecco, questo penso sia il collante. I bambini ci insegnano questo, a voler bene. A volte non è semplice, a volte è difficile, però è questo il percorso. Un impegno a favore delle popolazioni colpite dalle guerre che non si arresta. Assieme a padre Enzo Fortunato, ai rappresentanti della comunità di Sant'Egidio, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, i volontari della fondazione Auxilium sono stati nei mesi scorsi più volte in Ucraina, per portare aiuti alle popolazioni e soprattutto ai bambini. Siamo andati appunto in Ucraina, dove il Papa ci ha chiesto, padre Enzo, di portare una sua frase ad ogni bambino che incontravamo girando per le scuole dell'Ucraina. Ed è stato bello che la Federazione Italiana Gioco Calcio in quell'occasione ci ha donato 24.000 capi di abbigliamento. E abbiamo, grazie a quei palloni, a quelle tute, a quelle maglie della nostra nazionale, abbiamo potuto donare un sorriso in un luogo dove il sorriso mancava da tanto tempo. E la guerra purtroppo si è allargata in Medio Oriente, per questo si sta mettendo a punto l'organizzazione dell'evento, tenendo conto delle difficoltà legate ai paesi dove ci sono conflitti in corso. I bambini arriveranno a bordo di otto treni di Trenitalia che partiranno dal nord al sud del paese. Uno di questi charter entrerà nella stazione vaticana, quindi ci sarà l'invito di Papa Francesco per la pace in Terra Sante, in Ucraina e negli altri luoghi, teatro di guerre. In aula Paolo VI ci saranno non solo bimbi ucraini, palestinesi e israeliani, ma anche bambini dalle favelas brasiliane, oltre ad una baby orchestra della pace.